Benvenuti ragazzi sono Francesco e oggi vi andrò a fare la sfida che ha proposto Michael quindi infatti ha detto che vi devo stupire con trucco e devo stupire anche Mattia e Michael quindi direi subito di incominciare allora per prima cosa andiamo a prendere una carta esattamente questo set di picche questo set di picche lo andremo così a lasciare in mezzo al mazzo sarebbe credibile che ora io scoccoli da il set di picche si gira nel mazzo fatti guardare ah si gira un 4 un 4 di cuori forse ho sbagliato qualcosa ah però lo sai ragazzi posso fare un miracolo perché se vado a contare 4 1 2 3 4 qua ho lasciato una carta carta era la vostra set di picche questa tendenza di picche però guardate la cosa la cosa più curiosa è qua esattamente i 4 passi ragazzi fatemi sapere su un commento se vi ho stupiti e noi ci vedremo nel prossimo video bella grazie a tutti grazie a tutti